ciao a tutti benvenuti nel mio canale pollici in su ed iscrivetevi oggi andremo ad aprire delle slime con voi allora prima online già si è appiccicato qua sopra una consistenza abbastanza puzza e appiccicosa e basta ora però andremo ad aprire gli altri ecco voi qui ora andremo ad aprire questo qui tu si apre diciamo che non si appiccica diciamo che non si appiccica bucciolenta e bocciolenta e non si può muovere l'aria pensiamo all'altro questo è proprio nulla che cosa farà oh mio dio è bellissimo oh la mio dio è bellissimo guardate prima di tutto puzza poi non si può allungare si spezza vedete vedete prima proprio non si è allunga si spezza veloce quindi non vi posso dire termina qui il nostro video e non dimenticate spolleggiate ed iscrivetevi ciao a tutti grazie 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 grazie